Oggi che ne dite se torniamo a parlare di un titolo rilasciato per PlayStation 3? Sarebbe quel titolo che ha segnato il cambio di rota definitivo della Naughty Dog Dopo che ha finito di far vedere cos'era capace su PlayStation 2 con Jack and Dexter, cosa fece? Naughty Dog la conosciamo tutti Dopo aver fatto gli ottimi giochi di Crash Bandicoot su PlayStation 1 Poi la saga di Jack and Dexter su PlayStation 2 Fece un nuovo cambio di rota con Uncharted Drake's Fortune La storia di questo gioco è abbastanza lunga ma ve la racconto in due parole all'inizio Nathan Drake, chiamato semplicemente Nate, è a largo delle coste di Panama E è andato a recuperare sul fondo dell'oceano le spoglie del suo antenato Sir Francis Drake E purtroppo visto che nella bara non ha trovato le sue spoglie ma soltanto il suo diario Viene a scoprire che contiene la locazione per la mitica ciltà leggendaria Eldorado Ma purtroppo è stato attaccato dai pirati e gli hanno rubato il diario E purtroppo la giornalista che l'accompagnava Elena Fisher non voleva perdersi lo scoop e l'hanno rapita Insomma, una storia che ha della affascinante A lungo andare ricoderà un po' Indiana Jones misto a Tomb Raider Vediamo invece la grafica ovviamente E che vi devo dire? Essendo un titolo lanciato ovviamente per la prima PlayStation 3 non si presenta molto male Anzi, si presenta abbastanza bene perché abbiamo ambientazioni che sono state realizzate con una buona ispirazione Il motore grafico riesce a far vedere delle ambientazioni praticamente molto dettagliate Ben implementate nel design e anche addirittura molto mistiche potrei dirvi anche Poi invece, quanto riguarda i personaggi, ok? Non sono forse il pezzo migliore del gioco perché, ok, lo so che eravamo inizio vita di una PlayStation 3 Però, non è che si presentano male Ognuno appare unico, dai protagonisti ai personaggi secondari Con animazioni praticamente ottime Non sono state fatte molto male Anzi, devo dire che almeno sono stati fatti in modo abbastanza discreto Anche se forse mi sarei aspettato una migliore cura nelle texture Perché se notate bene, alcune sono un pochettino troppo pixelose Ma del resto, graficamente, il gioco si difende ancora oggi abbastanza bene Nonostante abbia un po' di anni sulle spalle Nel sonoro posso dire che si presenta bene Effetti sonori in grandissima quantità Che nessuno vi annoierà Anzi, tutti fatti bene Poi, musiche di sottofondo Perfette Degne per accompagnare quest'atmosfera C'hanno un non so che di cinematografico Poi invece, quanto riguarda il doppiaggio in lingua italiana Posso dire che è stato fatto molto bene Ben sincronizzato nel movimento del labiale E i personaggi, ovviamente, noto che hanno una voce ben caratterizzata Meno male E per il gameplay Uncharted Drake's Fortune cos'è? Beh, a quanto pare, sembra che sia Un gioco platform con elementi da sparatuto in terza persona Più una sorta di avventura Il vostro scopo è quello di giocare con il protagonista Nathan Drake Che può fare diverse azioni durante una partita Può arrampicarsi sulle piattaforme un po' come fa Lara Croft Aggrapparsi sugli appigli di ogni tipo E saltare e spostarsi da una piattaforma all'altra E tutto è messo in una visuale in terza persona In pratica con la telecamera che è alle spalle di Nathan E tenete presente che Quando dovremmo utilizzare le armi da fuoco Sì, perché ci sono situazioni in cui le utilizzeremo Se premiamo un pulsante La telecamera si sposta appena dietro la sua spalla Per cercare di permettervi di minare per bene Oltre a utilizzare le armi da fuoco E addirittura fare in un gioco platform Un po' come i novelli giochi di Tomb Raider di una volta Cos'è che ha introdotto di nuovo? Il fatto che potete anche utilizzare dei mezzi di trasporto Perché i nostri due protagonisti Nata nella giornalista Elena Che non è vero che è stata rapita, mi sono sbagliato Possono guidare delle jeep Oppure addirittura utilizzare situazioni In cui possono anche addirittura difendersi Tipo usare una torretta montata sullo stesso veicolo Oppure anche addirittura usare una moto d'acqua E anche addirittura sparare contro i nemici E dobbiamo trovare in tutti questi livelli Non soltanto degli enigmi da risolvere Ma anche addirittura 60 tesori Che in pratica riusciremo a trovarli Grazie a una buona mentalità Nel senso che dobbiamo darci da fare per trovarli Non hanno un certo effetto sul gameplay Ma vi serviranno per darvi dei punti preziosi E qual è il bello di questo gioco? Il fatto che era fatto per farvi tenere impegnati e incollati allo schermo Per molto tempo La difficoltà si presenta a certa abbastanza elevata Finirlo non è semplice Tra l'altro abbiamo addirittura mercenari che sono veramente svegli e cazzuti Insomma, un titolo che vale veramente tanto Se volete provare a recuperarlo Ve lo straconsiglio Perché oltre a essere il primo capitolo Dell'omonima saga di Drake Non è fatto per niente male Anzi Pensate che Con questo si nascerà praticamente una leggenda Della Playstation 3 Ci vediamo al prossimo video Magari si parleremo di Uncharted 2 Magari si parleremo di Uncharted 2 Magari si parleremo di Uncharted 2 Magari si parleremo di Uncharted 1 Magari si trovano